Sono Vincenzo, sono il presidente di una piccola compagnia tetrale di Venezia. Noi siamo gli H2O non potabile e abbiamo realizzato un piccolo spettacolo che si chiama L'Ir del conflitto generazionale. Noi parliamo di conflitto generazionale tra vecchi e giovani nell'ambito del potere. Abbiamo vinto un premio, un premio off del tetrostabile del Veneto. Io sono qui perché vedo nella mia regione, nella regione Veneto, una difficoltà a creare rete. Quindi tra noi è difficile chiedersi quali sono i piccoli bisogni di cui abbiamo da sviluppare, quali sono le politiche necessarie per la mobilità di questi piccoli gruppi che cercano di distribuire i propri spettacoli. Sono tre, secondo me, i problemi principali della nostra regione e sono appunto questa anarchia delle istituzioni e delle piccole organizzazioni che non dialogano tra loro, non creano a livello proprio locale un network, una sorta di progetto comune, ma si competono tra di loro per pochi spiccioli e una mancanza di stabilità degli impiegati nelle maestranze artistiche e infine una mancanza di fondi, di una politica seria istituzionale. Sono qui per cercare intanto dei partner per presentare, per poter partecipare alle sovvenzioni e a progetti europei che permettono di in qualche modo veicolare alcune sovvenzioni per sviluppare quella che è la circolazione dei giovani artisti di cui io sono rappresentante e soprattutto per rendere sensibili le regioni o i rappresentanti delle regioni delle città a creare delle politiche che guardino alle piccole organizzazioni culturali in modo come una risorsa e non come soggetti a cui non voler dare le poche risorse che sono già poche. Noi non cerchiamo risorse, cerchiamo partner e sono qui, sono molto contento di essere stato qui ho avuto la possibilità di raccogliere le adesioni, le informazioni di tutta una serie di soggetti che non sono, non fanno parte del campo teatrale di cui io sono rappresentante ma che comunque rappresentano un collegamento, anche una cosa importante per cui sono venuto qui è quella della ricerca delle best practice, di esperienze positive dalle quali potrei trarre qualche idea per creare quelli che sono nuovi progetti di cui abbiamo bisogno a livello locale per poi partecipare a progetti di stampo e di respiro europeo Grazie